Sono state raccontate le storie dei Carusi agli alunni e alunne del circolo didattico statale Leonardo Sciascia di Caltanissetta, un momento di approfondimento e riflessioni organizzato dalla scuola proprio in prossimità della giornata dedicata alla memoria delle vittime e delle miniere. La nostra scuola lavora ai processi di costruzione dell'identità del bambino e del bambino di Caltanissetta, processo che quindi deve partire dalle radici e le nostre radici provengono dall'agricoltura e dalla miniera. È importante per noi che i nostri alunni conoscano queste realtà ormai da loro così lontane, che però hanno segnato la storia del nostro territorio e della nostra società. A partire da queste realtà loro potranno crescere e sapere da dove vengono. Noi speriamo che progressivamente possano anche attraverso delle uscite nel territorio conoscere realtà mineralogiche importanti come Gabbara per esempio, per proprio radicarsi in questo territorio e riuscire ad amare e ad apprezzarlo. Pensiamo che Caltanissetta abbia bisogno di un processo di rinnamoramento nei confronti di un territorio che a volte proprio in issegni vivono come un territorio estraneo, ormai lontano. I bambini hanno assistito alla proiezione del docufilm Brucia come Zolfo, ascoltato le testimonianze di chi conosce le miniere, di chi quel mondo lo ha vissuto da vicino e chi lo ha raccontato anche in un libro, storia di Peppe Caruso di Trabbia. Il documentario dal titolo Brucia come Zolfo vuole intraprendere un viaggio, vuole raccontare un viaggio affrontato assieme a quattro alunni di Quinta Elementare che hanno percorso il mondo delle zolfare e dello zolfo fino ad arrivare come ultima tappa al cimitero dei Carusi che si trova qui a Caltanissetta. Oggi ai bambini voglio lasciare che bisogna ricordare quanti hanno lavorato nelle miniere e che purtroppo tanti hanno lasciato la loro vita lì per portare il pane a casa. Naturalmente sappiamo bene che le cose se non vengono alimentate vengono subito dimenticate. Io in particolare sono figlio proprio di un Caruso. mio papà all'età di sette anni è sceso per la prima volta nella grande zolfara, la zolfara di Trabbia tra Sommatino e Riesi e alla fine ha completato 44 anni di attività mineraria girando diverse zolfare. La mia grande curiosità da bambino era proprio quello di farmi raccontare i cosiddetti conti di zolfara e quindi addirittura mi addormentavo con questi racconti. Ora ho voluto quindi mettere insieme questi miei ricordi in questo libro Storia di Peppe, Caruso di Trabbia. Peppe appunto è quel famoso Caruso, quindi mio papà.